I gatti scimmia come questo esemplare femmina dominano la notte. Qualcosa ha disturbato la quiete di questo esemplare. La vivace violenza notturna, ha preso il sopravvento nella mente del gatto. Essa, attacca senza alcun motivo oggetti invisibili. Altre femmine vengono disturbate dai rumori irrequieti prodotti dagli oggetti inanimati. Un feroce pezzo di carta incustodito, si interpone nel cammino del nostro felino. Per lui, non ci sarà nulla da fare. Nell'area circostante, si intravede la presenza di una gatta peluche di stirpe reale. Nel frattempo, i nostri operatori, subiscono un violentissimo attacco coccoloso dalla più irrequieta del branco. Nel frattempo, i nostri operatori, subiscono un'imitazione di un'imitazione di un'imitazione di un'imitazione di un'imitazione di un'imitazione. Un'imitazione di un'imitazione di un'imitazione.